Benissimo, allora io direi di incominciare, ci saranno sicuramente altre persone che si collegano nel corso del tempo e vi ricordo che il nostro webinar è in questo momento in diretta streaming su YouTube che molte persone ritengono più comodo per semplicemente ascoltare e non interagire in questa occasione. Allora io darei l'inizio a questa presentazione e ringrazio la professoressa Maria Alessandra Sandulli che ha un'attività molto importante di studio del diritto sanitario, tema che si intreccia in un modo molto importante con questo discorso che noi facciamo agli LLM e per cui chiedo alla professoressa di fare un saluto, un'introduzione. Grazie. Grazie Carlo, sono molto felice e onorata, consentimi il termine di essere, di partecipare a questo vostro incontro su un tema così delicato e importante e attuale. Come accennavi, anticipavi, io ho istituito e dirigo il centro studi di diritto sanitario appunto istituito nel 2020 ed ha la caratteristica di essere appunto un centro studi interdisciplinare sulle tematiche del diritto sanitario. Lo abbiamo istituito con una serie di colleghi e esperti della materia dei vari settori giuridici, creando poi anche un comitato scientifico nel quale sono presenti anche medici e anche operatori del settore. E' un comitato dei vari comitati, tra cui un comitato di ricerca che è articolato in vari filoni e che si occupa di focalizzare diversi aspetti delle tematiche di diritto sanitario. Attraverso un'attività molto intensa organizza e gestisce anche una serie di confronti con altri esterni al centro e una serie di interviste con soggetti esterni al centro. Abbiamo intervistato per esempio in varie occasioni Dari Monfellotto come interno, abbiamo anche presidente della Fadoi, abbiamo intervistato Guido Rasi, abbiamo intervistato anche vari magistrati. Abbiamo cercato sempre di sottolineare l'importanza di una tematica trattata a livello interdisciplinare, anche per avere poi un più facile confronto e rapporto con le istituzioni. A questo proposito, proprio con riferimento alla tematica dell'intelligenza artificiale e un po' a monte anche a quella generale della digitalizzazione, abbiamo per esempio affrontato il tema del rapporto tra la tutela della privacy e la circolazione dei dati, con specifico riferimento alla possibilità di utilizzare i dati clinici per la ricerca osservazionale e repruttiva. Abbiamo toccato le tematiche della responsabilità sanitaria nell'ambito di queste, le particolari responsabilità collegate all'utilizzo delle macchine e delle fonti di intelligenza artificiale, anche e soprattutto nel momento in cui diventa l'intelligenza artificiale che si autoalimenta e autorealizza sia operazioni sia atti. Abbiamo sottolineato anche le difficoltà operative determinate dal sovraccarico di lavoro che stanno vivendo i medici e i loro effetti sulla cosiddetta burocrazia difensiva, tant'è che sono stati assunti finalmente anche dei provvedimenti in materia di responsabilità legati proprio a questo sovraccarico che crea una situazione non dissimile per certi aspetti rispetto a quella determinata dal Covid. In termini più generali abbiamo organizzato o contribuito a organizzare vari incontri proprio sulla sanità digitale anche in confronto con altri paesi dell'Europa occidentale. Quindi è veramente con un estremo interesse che partecipiamo attraverso anche la professoressa Periobella, la professoressa Lamarck, i nostri tradizionali operatori ed esperti di questo settore per portare il nostro minimo contributo ma soprattutto per avere e acquisire ulteriori spunti di riflessione da questo vostro incontro sperando, come dicevi, che sia soltanto il primo di una serie e poter riprendere anche a settembre altre occasioni. Grazie. Benissimo, ringrazio la professoressa Sandulli per l'inquadramento, l'introduzione e l'aggiornamento sulle attività del CESDIR-SAN. È molto importante perché per fortuna certi fronti sono già studiati quindi non occorre partire da zero ma ci sono delle osservazioni su questi fenomeni su cui occorre un aggiornamento e uno studio costante. Intanto ringrazio tutti i partecipanti a questo webinar che riguarda un tema che è diventato centrale nel dibattito pubblico. Cito soltanto due esempi. Uno, il discorso di apertura di Capodanno del Presidente Mattarella che ha citato in due passaggi il concetto di intelligenza artificiale e Papa Francesco nel G7 a giugno ha evidenziato il potenziale dell'intelligenza artificiale per il bene comune, ma pur che questa tecnologia sia usata in un modo assennato. L'intelligenza artificiale è utilizzata da decenni, non è un termine, sappiamo, nuovissimo, ma la vera novità per cui siamo qui a parlarne non da informatici, ma da clinici, da giuristi, da specialisti di letteratura e di comunicazione, è il fatto che da qualche anno è stata possibile l'interazione con le macchine non più solo con linguaggi di programmazione, ma in linguaggio naturale. Quindi la possibilità di parlare alle macchine ha reso questi strumenti accessibili a un pubblico vasto e queste tecnologie evolvono in un modo sorprendente che può sfuggire o non essere pensato dagli stessi programmatori che questi sistemi li hanno ideati. E questo è un tema affascinante e vertiginoso nello stesso tempo. Non ci focalizzeremo in questo incontro su tematiche che ad esempio all'interno del nostro Dipartimento stesso hanno una storia molto consolidata, pensate alle omics, lo studio dei farmaci assistiti all'intelligenza artificiale, lo studio delle proteine, all'imaging medico, tutti temi serissimi e anche oggetto da anni di studi e anche di grandi finanziamenti, ma la polarità con cui è nata questa serie di incontri che abbiamo chiamato questo osservatorio è nata anche da un'esperienza personale, di questa molti di voi conoscono, per cui l'anno scorso proprio in coincidenza dello sviluppo dell'intelligenza artificiale sul mercato mi ammalavo di una malattia rara e avevo l'occasione curiosa di poter vedere l'impatto delle tecnologie sia sulla funzione del medico, sia sulla vita del paziente. E fra le cose più interessanti c'è stato ad esempio verificare quanto il fascicolo sanitario è stata da un lato una novità interessantissima e sorprendente, dall'altra gravata di limiti molto grandi. Ad esempio ricordo come il fascicolo sanitario non contenga l'imaging, per cui se bisogna spostarsi anche di pochi chilometri per la cura le immagini non viaggiano più con la rapidità di una mail, ma viaggiano con la lentezza del piccione viaggiatore. E questo pone dei problemi nell'esercizio del diritto di cura che possiamo aspettarci saranno superate dal prossimo fascicolo sanitario ma occorre coscienza, sorveglianza e occorre anche costruzione di nuove idee perché questo strumento sia realmente efficace ed efficiente. In più i giuristi conoscono, già ne abbiamo sentito parlare, di tematiche importantissime che riguardano la privacy, ad esempio la segnalazione di violazioni da parte di più regioni rispetto ad aspetti della privacy che riguardano il fascicolo sanitario e che pongono dei problemi ad esempio di fiducia rispetto all'uso di questo strumento pure molto importante. La professoressa Sanduli ha già ricordato la questione del sovraccarico di lavoro da parte del personale sanitario che è un tema a tutti noto e in questa vicenda dell'ultimo anno un elemento di partecipazione è stato vedere l'enorme lavoro che i colleghi hanno dovuto dedicare ad esempio per poter ricostruire documentazione clinica, per poter mettere me o altri malati sui binari giusti e chiedendomi più volte come l'intelligenza artificiale avrebbe potuto offrire un supporto, magari una riduzione del tempo impiegato in queste funzioni che non sono funzioni strettamente clinico-assistenziali. C'è un recente editoriale del British Medical Journal che abbiamo anche discusso nella nostra newsletter che dice come per anni si sia parlato di massimi sistemi attorno all'intelligenza artificiale mentre un'area di sviluppo estremamente interessante sarebbe proprio un supporto nella fatica quotidiana nella gestione della documentazione clinica quindi qualcosa che vola ad un livello molto più basso ma molto più concreto rispetto a studi che sono stati dedicati ricordiamo che ad oggi non è possibile utilizzare un sistema di intelligenza artificiale su materiale clinico senza adottare delle cautele speciali per cui in questa esperienza di quest'anno ho potuto dare in pasto la mia documentazione clinica e se non è titolare da paziente e ad esempio vedere curiosamente che tipo di dati possono essere estratte ad esempio è possibile interrogare come se ci fossero delle consegne da dare alla badante da 50 pagine di relazione di missione e chiedere al signor Clerici domani che medicina deve prendere un aiuto potenzialmente grandissimo dal punto di vista della praticità il punto è che però per poter utilizzare questi sistemi in una prospettiva clinica utile occorre uno sguardo che sia realmente interdisciplinare che comprenda quindi visioni tecniche, giuridiche ma anche umanistiche e psicologiche perché? Perché questa tecnologia che ci arriva con molte promesse e anche molte inquietudini in realtà avrà bisogno di essere bilanciata e trovare una possibilità reale di applicazione e sono quasi alla conclusione del mio intervento le possibilità che ci vengono annunciate sono molteplici ad esempio è già pratica comune utilizzare e vedere utilizzata nella stesura di lavori scientifici l'intelligenza artificiale prima con il collega Mazzoni si rifletteva su quanto ad esempio gli studenti utilizzano già almeno dalle scuole superiori se non nelle università il sistema di intelligenza artificiale per realizzare contributi, lavori o compiti e questo è un aspetto da cui non possiamo esimerci Atenei internazionali ad esempio il King's College di Londra hanno e alcune realtà italiane hanno già sviluppato delle linee guida chiare dove con l'intelligenza artificiale in sostanza bisogna fare i conti non si può proibire e far finta che non esista ma occorre anche qualificare gli operatori e i docenti e quindi diversi Atenei si stanno muovendo probabilmente anche la Stata di Milano a un cantiere avviato su questo fronte altro aspetto è la capacità di elaborare di dare i dati non strutturati quindi di dare in pasto cartelle cliniche di poter svolgere servizi di consulenza anche su tematiche comportamentali psicologiche attraverso i chatbot e una questione che è da segnalare molto importante come i sistemi di intelligenza artificiale probabilmente stanno già affiancando il dottor Google o addirittura attraverso questa capacità di mimare di simulare una relazione possono avere addirittura un effetto ancora più pervasivo rispetto al paziente il paziente che può chiedere soprattutto se i clinici hanno poco tempo da dedicare chiedere delle domande e avere delle aspettative che non dovrebbero essere rivolte soltanto a una macchina sostanzialmente le possibilità di attuazione pratica dell'intelligenza artificiale non sono ancora realizzate in tutte le potenzialità e in alcuni contesti guai sarebbe se la tecnologia sostituisse la relazione con le persone l'ambito clinico e questo ma è molto vicino all'ambito clinico c'è ad esempio tutto il settore della mediazione culturale dove ad esempio l'accoglienza al paziente straniero non potrà non dovrà essere affidata soltanto a un traduttore automatico ma evidentemente a un processo di relazione che implica anche il contatto la conoscenza e quindi di questo sentiremo parlare la professoressa Riva sto concludendo naturalmente i temi su cui noi ci interroghiamo riguardano anche come concepiamo la sanità e come concepiamo la cura se come diritto oppure come merce questo è un tema fondamentale che orienterà le scelte quindi il tema potrebbe essere quali sistemi comprare a quali sistemi sul mercato affidarci oppure che uso critico fare delle risorse che già esistono e questo è uno degli stimoli che cerchiamo di dare in questo seminario chiudo con le ultime cose di cui sentirete parlare siccome i piani sono molto intrecciati c'è anche una conoscenza di strumenti strumenti che evolvono addirittura con un ritmo quotidiano chi di voi ha usato chat GPT sa che il mese scorso ha introdotto le cose che oggi sono già cambiate e quindi cerchiamo di tenere qui due colleghi due amici Edoardo Ares e Alessandro Pezzano fanno un lavoro prezioso certosino settimanale di aggiornamento in modo da vedere che cosa il mercato produce ma anche quali sono le riflessioni critiche che gruppi nazionali e internazionali producono attorno a questo tema il nostro obiettivo è che questo osservatorio possa essere un'occasione in cui parlarci tra discipline diverse per riflettere che uso fare di questa tecnologia vi ringrazio per l'attenzione e passerei la parola a Carlotta Ghironi Buongiorno a tutti mi presento mi chiamo Carlotta Ghironi sono psicologa clinica e psicoterapeuta e vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione di questo incontro in particolare ovviamente al dottor Clerici per questo invito sono lieta di essere qua e di potermi confrontare con tutti voi su questo tema affascinante io parlo dei chatbot nella pratica psicoterapeutica e nella psicologia clinica e partirei dalla definizione di chatbot che è un programma informatico progettato per simulare una conversazione umana quindi utilizza l'intelligenza artificiale e l'elaborazione del linguaggio naturale per interagire con le persone quindi per rispondere a domande fornire supporto dare informazioni possono essere basati su regole quindi seguono dei standard predefiniti di istruzioni oppure sono basati sull'intelligenza artificiale quindi imparano si adattano alle conversazioni anche che accumulano nel tempo negli ultimi anni i chatbot hanno trovato un impiego significativo ed interessante nella terapia e nella consulenza psicologica la cosa interessante è che hanno una disponibilità continua possono essere quindi consultati in qualsiasi momento e forniscono quindi un supporto immediato con degli strumenti estremamente anche efficaci pratici e facilmente accessibili quindi stanno diventando abbastanza popolari e interessanti sia per i pazienti che per i professionisti della salute mentale innanzitutto innanzitutto dobbiamo dire che esistono chatbot che sono appunto basati su regole quindi hanno degli script predefiniti rispondono a domande e hanno delle risposte preprogrammate quindi hanno dei limiti nella loro capacità di risposta ma allo stesso tempo sono estremamente utili se ci sono delle domande frequenti o standard e anche per eseguire dei compiti ripetitivi poi ci sono i chatbot invece basati sull'intelligenza artificiale quindi che sono basati su degli algoritmi di machine learning e quindi comprendono rispondono in modo molto più naturale simulando quasi una conversazione umana sono in grado di apprendere dalle interazioni passate e migliorano cioè apprendono nel tempo alcuni esempi di chatbot che ho un po' esplorato nel settore della salute mentale sono dei chatbot basati sull'intelligenza artificiale che simulano un supporto emotivo e psicologico seguendo quello che è la terapia in particolare cognitivo comportamentale oppure terapie basate sulla mindfulness o la dbt la terapia dialettica dalle ricerche si è visto che questi chatbot permettono di essere utilizzati dagli utenti in modo appunto immediato a qualsiasi ora e si è visto che danno dei benefici soprattutto per i sintomi di ansia e i sintomi depressivi quindi sono delle specie di terapeuti però in intelligenza artificiale altri chatbot che ho un po' esplorato sono quelli legati al tema della morte del morire del fine vita che sono chiamati deathbot quindi sono degli esperti specifici su queste tematiche e anche sulla tematica del lutto in particolare quindi forniscono un ascolto empatico una comprensione aiutano le persone ad elaborare questo momento specifico della loro vita e allo stesso tempo permettono di ampliare discussione sui desideri finali quindi aiutano invece le persone che si ritrovano magari con una malattia terminale a comunicare i loro desideri riguardanti il fine vita e permettono di anche dare un supporto nello stilare quello che possono essere le direttive anticipate di trattamento offrono informazioni su quelle che sono le cure palliative gli hospice e le procedure legate al fine vita permettono anche di avere delle riflessioni più su tematiche esistenziali oppure anche un supporto di tipo spirituale anche in questo caso sono delle conversazioni che simulano quelle che avvengono con un counselor o con un terapeuta oppure esistono chatbot in questo caso sono legati a basati più su regole predefinite su informazioni predate che sono quelli che possono essere utilizzati dai terapeuti per creare gli script ipnotici quindi raccolgono le informazioni che il terapeuta inserisce riguardante quel determinato paziente e creano degli script ipnotici quindi sono chatbot in questo caso per i professionisti che danno un supporto nella terapia e si è visto anche che in supporto non in sostituzione ma in supporto alle terapie ci possono essere anche dei bot che per esempio sempre sul tema della morte sono bot che sono sono chiamati griefbot e sono in grado di simulare una conversazione con una persona umana che non c'è più quindi sono bot che utilizzano tutte quelle tracce che sono state lasciate da una persona in modo intenzionale quindi chat email social media oppure non intenzionalmente come le ricerche sui siti web i registri delle telefonate quindi utilizzano queste che sono definiti i narrative bits cioè dei bit narrativi dei frammenti narrativi di una persona vengono messi insieme e viene ricostruita l'identità digitale di una persona in questo modo i griefbot possono stimolare una conversazione con una persona che non c'è più la comunicazione è bidirezionale cioè i griefbot possono rispondere a delle domande ma possono anche avviare la conversazione in modo autonomo e lo spazio di interazione è uno spazio privato è uno spazio sono chat one to one quindi fra una persona e il bot e altri chatbot che vengono che sono interessanti anche per la terapia clinica possono essere quelli che sono stati studiati essere dei chatbot di proiezione futura cioè una persona ha la possibilità di dialogare con quello che può essere la creazione con l'intelligenza artificiale di una sua proiezione avanti negli anni e quindi possono essere conversazioni che uno ha un utente ha con una versione invecchiata di se stessi l'obiettivo di questi bot è quello di promuovere delle riflessioni a lungo respiro e dei cambiamenti nel comportamento delle persone quindi possono essere anche di supporto proprio alla terapia perché servono per motivare le persone a fare scelte migliori nel presente in seguito appunto a queste conversazioni simulate con una versione futura di se stessi i vantaggi che possiamo avere nell'uso dei chatbot in psicologia clinica sono quelli che sono strumenti accessibili e disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 quindi ovviamente molto di più di un terapeuta umano possono ridurre i costi della terapia mantengono un completo anonimato per il paziente e sono appunto strumenti immediatamente accessibili soprattutto per situazioni di crisi i limiti però che ci sono è la mancanza di fatto di empatia umana i limiti di intervento in situazioni gravi problemi di privacy e sicurezza dei dati questa è una sfida che andrebbe approfondita e si è osservato anche rischi di dipendenza da chatbot per esempio ci sono molte opinioni controversie rispetto all'utilizzo dei griefbots cioè l'utilizzo di questi bot che simulano persone che non ci sono più perché potrebbero essere invece che un supporto in una fase specifica dell'elaborazione del lutto possono essere invece al contrario dei limiti nell'elaborazione quindi bloccare l'elaborazione del lutto l'ipotesi che si può fare è quella di provare a sviluppare dei modelli ibridi di terapia quindi con chatbot e con incontri invece con i terapeuti sicuramente sono uno strumento che si sta introducendo anche nella pratica clinica che sta offrendo nuove opportunità e quindi vale la pena approfondirli e studiarli per concludere il futuro che ci può essere di questi chatbot sicuramente vanno raffinate le capacità dell'intelligenza artificiale per migliorare l'efficacia di queste conversazioni si può procedere anche verso una personalizzazione proprio dei chatbot e migliorare l'accessibilità però anche in aree con varie lingue o con in situazioni in cui possono non essere al momento accessibili può essere interessante sviluppare una collaborazione fra psicologi e sviluppatori quindi migliorare la collaborazione interdisciplinare e sicuramente andranno approfondite delle regolamentazioni sulla privacy ma anche sugli aspetti più etici della questione con questo vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola benissimo grazie alla dottoressa Chironi ci sono già degli interventi nella chat che riprenderemo nel primo momento di risposta alle domande su un'osservazione l'intervento naturalmente non è una proposta di sostituire il lavoro del terapeuta con i chatbot ma è affacciarsi su questa possibilità io ricordo peraltro che nel servizio pubblico milanese un paziente con una grave psicopatologia ha circa 10 minuti al mese di relazione con uno psichiatra per cui forse qualsiasi cosa è meglio di niente questo è un punto su cui dobbiamo riflettere dall'altra è che cosa produciamo come strumento terapeutico il rischio è che questi sistemi possano offrire una scorciatoria semplificata rispetto al fatto che la relazione costa non solo in termini economici ma costa anche in termini personali e non tutto quello che vale può essere contabilizzato secondo un metodo economico molto stimolante e poi tutto il tema del fine vita della cure palliative dove la questione dell'intelligenza artificiale si sta facendo ora io introduco un altro degli interventi importanti di oggi che è tenuto da Giuseppe Levi che è fisico e docente di informatica a Bologna a cui passo la parola sono collegato non vedo se c'è il mio video comunque cerco di condividere il mio schermo almeno per parlare sì non sono proprio docente di informatica insegno all'università di Bologna al polo scientifico didattico di Cesena dentro alla laurea professionalizzante in informatica e tra le altre cose per il mestiere che faccio cioè anche quello di ricercatore e fisico mi occupo di queste tematiche la prima cosa che vorrei tra virgolette criticare è il termine intelligenza artificiale tutti quanti lo stiamo usando così in realtà è come adesso parlando di fronte dei medici come se si dicesse curo una persona con la medicina intelligenza artificiale è un campo amplissimo qua vedete alcuni alcune alcuni sottocampi e alcune applicazioni analisi dei social network analisi delle immagini natural language processing cioè processamento del linguaggio naturale ma visualizzazione deep learning analisi audio e insomma è un campo estremamente ampio quello di cui ci stiamo occupando oggi è una piccola parte dentro a un campo ben più vasto che è quello dell'intelligenza artificiale generale che come se dicessimo parliamo della medicina dentro al machine learning che ha a sua volta il fatto che le macchine possono imparare dai dati e adattare i loro algoritmi è un campo ampio che a sua volta contiene il deep learning il fatto di usare reti neurali con molti strati collegati fra loro per permettere questo adattamento agli algoritmi ma dentro tutto questo nell'incrocio fra processamento del linguaggio naturale visione al computer vision e deep learning c'è il mondo delle AI generative e dei large language models che è quello che adesso viene chiamato intelligenza artificiale cioè il fatto che delle macchine sono in grado di generare dei discorsi delle parole una cosa che vi voglio dire in parte è stata detta vi do anche un link le applicazioni di queste tecniche in generale di cosiddetta intelligenza artificiale sono numerosissime e documentate in letteratura e in particolare vi segnalo la collezione di natures e con AI in healthcare magari se dopo c'è tempo possiamo seguire questo link e vedete una collezione enorme che passa tra l'altro per esempio nell'analisi di immagini e tantissime cose tra cui i large language models cosa sono i large language models qua i miei colleghi informatici mi scuseranno perché fate una sovrasemplificazione il discorso sarebbe ben più lungo e un large language model è un sistema che permette di prevedere la parola tra parentesi token loro dividono il nostro discorso in pezzettini come fossero simboli e sillabe token sono in inglese vuol dire gettone ma non corrisponde a una lettera ma sono piccoli gruppi di lettere e riescono a prevedere la parola successiva in una frase la lunghezza di questa frase è chiamata finestra di apprendimento e questi sistemi vengono allenati con una enorme base di testi e riesce a quindi a generare nuovi testi seguendo gli stili imparati un'enorme base di testi basti pensare che se ricordo bene il costo per allenare uno di questi modelli era intorno a un miliardo di dollari comunque essendo un generatore è stato anche chiamato pappagallo stocastico un large language model bada più a come genera un testo che al suo contenuto o al suo significato in questo esempio per esempio touchpt 3.5 la vecchia versione non riesce a rispondere alla domanda dove compare la frase carneale chi era costui questo io era un tipo di test che ho fatto sei mesi fa su con chatpt e lui mi ha cominciato a generare cose di ogni genere e alcune anche molto divertenti a un certo punto era arrivato a dire che era un tormentone di Raffaella Carrà generato un tormentone estivo beh però questo tipo di macchine evolve evolve e quindi l'ultima versione chatpt 4.0 ci riesce e qua avete il link alla alla chat le chat che ho generato sono tutte condivise il testo con cui stimoliamo la risposta di un large language model è chiamato prompt e lo studio di come proporre stimoli ai large language model in modo che diano risposte più utili e accurate è chiamato prompt engineering guardate una piccola nota personale su youtube su web compaiono tanti bravi giovanotti che secondo me sono ben poco acculturati ma cercano di saltare sul carro proponendosi come prompt engineer e in realtà è qualche cosa di più serio e qualcosa di più serio con tanta letteratura scientifica che sta uscendo questa è la fonte di guarda caso è un'app che usa delle tecniche di analisi dati basate su tecniche di analisi testo app dimensions dot ai e alla voce prompt engineering mi fa il grafico del numero di pubblicazioni uscite dal 2015 ad ora e in particolare fra i vari settori e c'è anche il settore biomedico e clinico allora se vi possono essere delle criticità nell'uso dei large language model come fonte di informazione che perché a volte se ne inventano sono i cosiddetti allucinazioni non vengono chiamate allucinazioni vi posso mostrare un paper dove queste sono chiamate direttamente proprio direttamente nel titolo del paper delle bullshit che permettetemi il termine tradotto in italiano sono delle stronzate nel senso non sono bugie fatte con intenzioni ma sono dati generati più o meno a caso da parte dell'algoritmo basati basati sui dati su cui era stato allenato le loro prestazioni le prestazioni di large language model migliorano se siamo noi a dare informazioni dettagliate e precise nei prompt e chiediamo al sistema di rielaborarle allora qua è già un altro modo di usarle io chiedo al sistema di rielaborare delle informazioni che gli sto dando per esempio dei prompt comuni possono essere scrivi una lettera commerciale in tono formale con questi contenuti e poi vi posso elencare il numero di contenuti oppure genera un contratto di locazione in ambito giuridico questi oggetti sono già molto usati per la generazione di documenti diciamo standard genera un contratto di locazione per una casa a Bologna che si è conforma a leggi statali e locali con informazioni rivela rilevanti che gli do il risultato di una richiesta dipende molto dalla richiesta in verde dalle informazioni che ho dal ruolo che do alla macchina e dallo stile che indichiamo nel pronto per esempio riassumi il contenuto di questo documento pdf avrà un risultato diverso da riassumi il contenuto di questo documento pdf con uno stile comprensibile a un bambino ed ha se un docente universitario riassume il contenuto di questo pdf con uno stile comprensibile a uno studente questi tre prompt anche se manteniamo il documento lo stesso documento avremo risposte diverse piccolissimo esempio di prompt engineering e permettetemi di dire un piccolissimo esempio di quello che viene chiamato RUG oppure detto anche Retrival Augmented Generation cioè generazione di contenuti basate basata sulla retrieval sulla il fatto di recuperare delle informazioni ed è un pochino questo quello che si vuole fare quando si parla di fascicolo sanitario del fascicolo sanitario di un paziente si chiede alla macchina gli si dice guarda queste sono le informazioni quello che devi fare è farne un riassunto e dare al medico o al medico o alla badante no il dottor diceva vedi i farmaci che il paziente deve prendere nelle prossime ore ecco quindi magari può essere un riassunto non tecnico comunque si parte da del materiale e quello che si cerca di ottenere è un riassunto o delle informazioni su quel materiale ecco infatti se per esempio potessimo far analizzare a una macchina una cartella clinica di un paziente potremmo ottenerne un riassunto oppure potremmo far analizzare al sistema più cartelle cliniche per cercare elementi comuni o raggruppare i dati è ovvio e ce n'ha già parlato la collega durista i problemi di privacy ma sono anche ci sono anche problemi di accuratezza nel questo tipo di elaborazione i problemi di privacy potrebbero essere affrontati magari ne discuteremo più in dettaglio per esempio anonimizzando i dati io vedo un caso clinico ma non so di chi è non è associato un nome oppure se devo associarlo alla persona magari faccio eseguire il large language model su sistemi locali non vado a prendere i dati di Giuseppe Levi e li vado a trasmettere nei server di OpenAI oppure di Meta o di qualche altro fornitore ma faccio girare localmente questo tipo di algoritmi la cosa interessante è che questo è possibile perché c'è un grossa sbilanciamento fra la potenza di calcolo che è necessaria per allenare uno di questi algoritmi la potenza di calcolo che è necessaria per offrire un servizio a milioni di persone e invece la potenza di calcolo che è necessaria per eseguire uno di questi algoritmi partendo da reti già allenate ce ne sono moltissime scaricabili e usabili pubblicamente un esempio noto a tutti è Lama 3 di meta ma ce ne sono in realtà moltissime altre e quindi facendola eseguire localmente su una macchina che sia installata localmente dentro la struttura sanitaria questo potrebbe garantire la privacy dell'utente dopo tutto non è molto diverso che il fascicolo sanitario nel fascicolo sanitario sono caricate le informazioni dell'utente potrebbe essere semplicemente un'estensione dell'elaborazione di quei dati il problema di privacy è assolutamente lo stesso per quanto riguarda il controllo sull'accuratezza come abbiamo detto i large language model possono fare errori bisognerebbe a mio parere tenere presenti i principi del cosiddetto meaningful human control cioè avere un controllo esercitato sempre da personale abilitato e addestrato in questo caso i medici si veda la pubblicazione di Robbins del 2023 in questo caso la parola meaningful human control meaningful human l'aggettivo meaningful si riferisce all'umano e l'esempio che fa nella pubblicazione è un bambino che magari si trovasse all'interno di una Tesla con pilota automatico è chiaro che il bambino non sa pilotare la macchina quindi non possiamo lasciare che questo mezzo vada in giro da solo senza controllo invece un adulto con la patente che è dentro la macchina magari può usare l'autopilota multimodalità adesso cerco di aglietarvi un po' o rattristarvi a seconda di come molte di queste LLM sono multimodali quando si parla di chat GPT O quella O vuol dire omni cioè sono in grado di analizzare non solo testo ma anche immagini e eventualmente il suono ho proposto a chat GPT O e a Cloud vorrei dire una cosa non esiste solo chat GPT chat GPT è una dei large language model disponibili in realtà sono moltissimi c'è lui c'è Cloud AI c'è Gemini e ce ne sono anche molti altri vi posso anche far vedere quella che viene chiamata è uno studio dove li confrontano uno propone un prompt e viene proposto a caso a due motori e poi uno vota il migliore la risposta migliore comunque ho proposto a chat GPT e a Cloud questa vignetta riconoscerete il disegnatore Bort della settimana aggmistica e chiedendo a loro con lo stesso prompt se è in grado di capire questa vignetta umoristica molto attuale con l'avvento della AI sotto sotto gli ho dato un suggerimento qui e con mia sorpresa entrambi i sistemi mi hanno risposto che capiscono la vignetta capiscono l'umorismo contenuto nella vignetta ne hanno dato una descrizione corretta e per esempio Cloud la vignetta sottolinea come le aspettative ottimistiche sulla carriera possano scontrarsi con la realtà lavorativa in rapido cambiamento un tema che l'IA sta rendendo sempre più attuale quindi le capacità di questi sistemi sono assolutamente notevoli guardate ho fatto altre prove magari ne discuteremo in alcune casi falliscono e qua torniamo al tema del del fatto che ci vuole un controllo umano sulle risposte multimodalità è stato accennato prima la questione del ruolo appare tra le più innovative di Rampenti possiamo chiedere a una macchina di recetare impersonando un personaggio a nostra scelta o rispondendo come farebbe un computer di programma a nostra scelta se qualcuno di voi fosse appassionato posso fornirvi un prompt per generare all'istante un ambiente di avventura testuale di suo gradimento sceglie lui come lo vuole fare ovviamente già molte aziende sfruttano questa illusione a me pare estremamente pericoloso questo è un esempio di grief bot di come avevamo detto prima non sapevo che stesse andando a prendere fra i dati lasciati su internet la cosa mi sembra molto diciamo molto dubbia dal punto di vista legale se pensiamo che noi non possiamo usare dal punto di vista medico la cartella clinica di una persona deceduta perché questa non aveva dato l'autorizzazione a usare i suoi dati clinici perché dovremmo provare poter usare le sue ricerche su internet o le sue mail mi sembra veramente almeno una contraddizione o possono essere generati dei cloni parliamo di psicologia e large language model cercando di completare un pochino quanto detto prima aggiungere altro materiale è un approccio più scientifico questa materia ma fino non molto fa si era limitata ad analizzare la psicologia umana nella interazione con la macchina per esempio nell'ambito dei robot che possono offrire assistenza agli anziani qua c'è un articolo dell'Università Cattolica di Milano c'è molta letteratura in materia ma qua stiamo già andando oltre andando a analizzare la letteratura si è aperto proprio il campo di studio della personalità delle macchine anche usando test psicometrici che normalmente vengono impiegati sui soggetti umani inoltre partendo dal fatto che gli large language models sono allenati su una grande vastità di dati di provenienza umana ci si può chiedere se e questo è un vi cito anche la pubblicazione è possibile se è possibile indurre una personalità specifica in un large language model e se hanno molteplici personalità nascoste all'interno ma ne mostrano soltanto una media in superficie la risposta è vedremo subito l'esempio anzi grazie al dottor Clerici oppure se addirittura i modelli linguistici di grandi dimensioni possono fare da valutatori di una personalità esaminando dei video in modalità sincrona quindi quindi qua il personaggio della psicologa dei robot Susan Calvin inventato da Isaac Asimov nel 1941 il primo il primo racconto si chiamava Bugiardo punto esclamativo nel 1941 fatto da Asimov e alla fine del racconto la psicologa dei robot lo fa impazzire completamente perché lo mette in contraddizione col primo principio della robotica questo personaggio che io vedevo da bambino e mi affascinava da bambino appare sempre meno fantascientifico il dottor Albasi e il dottor Clerici hanno svolto alcune prove di simulazione di colloquio clinico usando Ciaci PT4O direttamente da un dispositivo mobile hanno pubblicato l'altro giorno i due filmati su YouTube e è evidente che nonostante la semplicità dei locali proposti i risultati sono già estremamente impressionanti insieme al dottor Clerici stiamo studiando una metodologia di prompting sistematica ne potremmo parlare penso di aver fatto alcuni progressi per simulare una varietà di condizioni cliniche il lavoro in team in questo caso è interdisciplinare è assolutamente fondamentale io posso dare un aiuto per quanto riguarda il prompting sicuramente non me ne intendo non è il mio campo né per quanto riguarda i test né per quanto riguarda la valutazione necessità di un dibattito qua tocchiamo un tema un po' inquietante secondo me il dibattito con team disciplinare su questi argomenti è fondamentale considerando il fatto che vi sono aspetti etici ben più profondi e critici esistono già armi letali autonome se andate a cercare con la sigla L-A-W-S LOVES agli inglesi piace fare questo dei giochi di parole che vuol dire Lethal Autonomous Weapon Systems sono armi letali autonome che quindi scelgono da sole dove colpire e quindi questo ci pone di fronte a interrogativi non banali quindi questo penso che questo gruppo di ricerca e i gruppi di ricerca come Alma-I il nostro di Unibo debbano servire come stimolo per una discussione presa di coscienza e del cambio di paradigma tecnologico e sociale che stiamo vivendo e adesso questa è la mia slide finale non ho chiesto alla macchina se capisce questa vignetta ma sono disposto a avere eventuali domande benissimo ringraziamo Giuseppe Levi per questo intervento sempre brillante ricchissimo di stimoli una piccola nota abbiamo oltre 50 persone collegate su YouTube segno dell'interesse molto interessante il concetto di bullshit che è stato citato perché obiettivo della macchina non è la verità ma è la verosimiglianza e questo è un aspetto estremamente importante su cui dedicare attenzione adesso passare la parola alla professoressa Flaminia Aperiobel sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e un quadro giuridico in evoluzione prego grazie mille al dottor Clerici consentitemi di cominciare mi sentite? sì benissimo ringraziando veramente per questo invito e per queste occasioni di confronto interdisciplinare io sono tra i soci fondatori del CESDIRSAN quindi insomma è da anni che professiamo l'importanza di questo confronto soprattutto per noi studiosi del diritto sanitario ma tutte le volte in cui c'è effettivamente l'occasione per realizzare un scambio di idee mi rendo conto di quanto ciò sia imprescindibile e necessario pur con appunto le inevitabili semplificazioni che richiede cercare di parlare linguaggi comuni pur venendo da specializzazioni diverse quindi ringrazio davvero tutte le relazioni che mi hanno preceduto e l'introduzione del dottor Clerici che è stata brillantissima cercherò di dare il mio piccolo contributo dando qualche notazione preliminare sul quadro giuridico in evoluzione in materia di utilizzo dell'AI in sanità lo farò condividendo una presentazione vediamo se riesco proprio a condividere il powerpoint si si vede benissimo benissimo e quindi ripeto l'idea ho molte slide pronte perché da giurista ho sempre bisogno di un supporto e riferimento normativo preciso potrà essere sfruttata questa presentazione per magari futuri dialoghi non pretendo di illustrarla integralmente tantomeno esorientemente ma diciamo almeno abbiamo messo nero su bianco le basi per i nostri futuri dialoghi cerco di anche tenermi nei tempi che mi sono stati gentilmente assegnati vorrei cominciare facendo una notazione abbastanza scontata ringrazio anche il relatore che mi ha preceduta per aver insomma smascherato l'utilizzo del termine AI che non è altro che un'etichetta ma noi giuristi serve molto l'utilizzo di etichette ci servono per capirci e quindi anzi tendiamo a sovrapporre varie etichette e tra queste ecco mi interessa mettere in evidenza come l'ingresso in qualche modo dell'intelligenza artificiale e di quell'ampia congere di dispositivi intelligenti e connessi in qualche modo capaci di autoapprendere abbia determinato un cambio di paradigma il passaggio da quella che noi definivamo sanità elettronica a quella che ormai viene pacificamente definita sanità digitale ed è un passaggio che è stato avvertito anche a livello istituzionale perso dalla World Health Organization che nel 2018 ha sentito proprio l'esigenza di creare un programma dedicato a una strategia di sanità digitale e non più solamente elettronica proprio per dare conto dell'ingresso di queste nuove tecnologie in ambito sanitario tanto nuove poi non sono se pensiamo che il primo numero del issue della special issue dedicata a Lancet alla Digital Health risale al 2019 insomma lo sappiamo bene in realtà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale risale a tempi molto precedenti però come hanno ben evidenziato coloro che mi hanno preceduta è una realtà comunque emergente per una serie di fattori anche economici qui ho introdotto in questa slide uno studio il work package di un gruppo di lavoro legato a Confindustria che in qualche modo mette in evidenza il tasso di crescita di alcune tecnologie di sanità digitale e la dimensione attuale del mercato vediamo che l'AI in particolare quella cognitiva è tra le tecnologie con il più alto tasso di crescita pur essendo attualmente una delle meno sviluppate questo da tempo diciamo l'utilizzo di questa tecnologia in ambito sanitario è una delle più promettenti e lo vediamo anche dai valori di mercato e dall'interesse magari anche per questo tipo di confronti ecco quando confrontiamo il dato potenziale con il dato reale qui ho utilizzato una statistica prodotta da un soggetto privato la Net Consulting Cube vediamo come concretamente l'introduzione dell'intelligenza artificiale resta il fanalino di coda tra le tecnologie che fanno ingresso nei progetti di digital transformation concretamente delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere e questo dimostra che benché ne cogliamo le potenzialità diciamo il concreto ingresso di questi strumenti nella realtà operativa delle aziende è ancora una dimensione pioneristica ora accettato e chiarito che stiamo utilizzando un'etichetta quello su cui immagino tutti siamo d'accordo e abbiamo anche capito molto bene dalla relazione del tecnico diciamo informatico che mi ha preceduta è l'importanza dei dati e quando si parla di dati insomma il tema della privacy quello che noi dalla vulgate insomma chiamiamo privacy entra in gioco in modo preponderante io sono una gius pubblicistica una gius pubblicista il tema della privacy mi interessa ovviamente in modo laterale però inevitabilmente facendo sanitario me ne devo inevitabilmente appunto occupare e il riferimento normativo che voglio darvi è lo sapete lo conoscete tutti il GDPR e cioè il regolamento generale che è stato adottato a livello di Unione Europea nel 2016 ed hanno recepito nel 2018 quello che mi interessa mettere in evidenza dando un po' per scontate le definizioni di dato personale di trattamento di dato personale è che i dati relativi alla salute sono una categoria particolare di dati personali una categoria particolare alla quale la legislazione riserva un trattamento particolare qual è il trattamento particolare? i dati personali compresi tutti i dati personali in generale per poter essere trattati ha bisogno di una base giuridica che può essere il consenso oppure necessità specifiche che sono precisate dalla legge pensiamo un interesse pubblico l'adempimento di un obbligo legale eccetera in questo panorama cioè in questa regola generale i dati relativi alla salute si collocano in una posizione particolare perché appartengono alle particolari categorie di dati cosiddetti sensibili il cui trattamento è di regola vietato quindi la regola dovrebbe essere il divieto del trattamento dei dati relativi alla salute questo divieto è posto molto chiaramente dell'articolo 9 del regolamento ed ha una doppia finalità da una parte sicuramente la tutela della riservatezza ma dall'altra anche una funzione antidiscriminatoria cioè nel vietare il trattamento che rivela l'origine raziale le opinioni politiche le convinzioni religiose e anche i dati relativi alla salute si ambisce ad evitare che sulla base di questi dati si realizzano delle discriminazioni ovviamente questo divieto non è assoluto altrimenti non saremo qui a parlare vi sono delle deroghe al divieto di trattare dati sensibili e sono poste dalla legislazione di riferimento tanto in relazione a scelte effettuate dall'interessato tanto in relazione a motivi di interesse superindividuale l'interessato può dare un consenso esplicito per una o più finalità specifiche all'utilizzo dei suoi dati anche sensibili e quindi quelli di cui oggi ci occupiamo ovviamente salvo che la legge nazionale precluda in modo assoluto il trattamento e un'altra ipotesi è l'ipotesi in cui sia stato l'interessato stesso a rendere manifestamente pubblici quei dati nel qual caso sarà quella diciamo scelta di pubblicizzazione a rendere trattabili quei dati sanitari quando ci si riferisce invece ai trattamenti che dipendono da un interesse superindividuale e si abbia riguardo ai dati relativi alla salute sono soprattutto quattro le deroghe che vengono in rilievo motivi di interesse pubblico rilevante finalità di cura motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica fini di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica queste sono tra le tante deroghe che vengono in rilievo ovviamente la condizione per il trattamento è che questo avvenga sotto responsabilità di un professionista soggetto a segreto professionale o da altra persona che sia anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza è la stessa legislazione europea che consente agli stati membri per determinati dati tra i quali rientrano quelli genetici biometrici relativi alla salute di introdurre ulteriori condizioni e qui mi leggo a un'osservazione che faceva il relatore precedente che si riferiva all'anonimizzazione il legislatore nazionale ha scelto di imporre per i dati relativi alla salute anche delle specifiche misure di sicurezza comprese tecniche di scifratura di pseudonomizzazione e anche misure di minimizzazione cioè di stabilire come regola l'utilizzo minimo necessario di quei determinati dati e quindi queste sono sicuramente delle misure e delle precauzioni che il nostro legislatore ha introdotto a questo fine ovviamente essendo dati sensibili la violazione di queste regole di trattamento implica delle sanzioni sia sanzioni amministrative pecuniarie e sia ovviamente azioni risarcitorie a cui si espone il soggetto tenuto al trattamento che violi le regole del trattamento insomma abbiamo sentito parlare di casi di cronaca sulle varie azioni risarcitorie avviate tutte le volte in cui non si apprestino le misure di sicurezza necessarie per garantire gli standard di sicurezza ora faccio un salto che solo apparentemente sembrerà pindarico metto in comunicazione il tema dell'intelligenza artificiale del fascicolo sanitario elettronico ovviamente tutti sappiamo che cos'è il fascicolo sanitario elettronico addirittura è un istituto che risale all'epoca in cui si parlava di sanità digitale nemmeno di sanità elettronica in realtà scusate di sanità digitale non di sanità elettronica perché è uno degli istituti maggiormente disciplinati da tempo più risalente all'interno del nostro ordinamento l'ingresso in testi legislativi della disciplina del fascicolo sanitario elettronico risale al 2012 ma da allora pensate quell'unica articolo articolo 12 di questo decreto legge del 2012 è stato ritoccato più di 10 volte questo a dimostrazione di quanto questo strumento diventi sempre più importante al punto da diventare un elemento di analisi necessario anche quando si rifletta di AI in ambito sanitario ovviamente non avete bisogno insomma della spiegazione su cosa sia quale sia la definizione di fascicolo sanitario elettronico la più accreditata è quella attualmente sancita al primo comma dell'articolo 12 di questo decreto legge che vi ho accennato al quale ho fatto cenno ma quello poi anche ho già fatto cenno è che stiamo assistendo a un'implementazione fortissima di questo strumento anche quale conseguenza degli investimenti che sono stati dedicati nell'ambito della missione SAI salute proprio alla digitalizzazione in sanità il fascicolo sanitario elettronico e in generale tutto l'ecosistema diciamo dei dati sanitari è una delle degli strumenti abilitanti fondamentali per realizzare tutte le misure della missione salute che sono dedicate alla digitalizzazione in sanità e tante sono risorse che sono state messe in campo a questi fini e non è un caso che proprio negli epochi più recenti negli ultimi anni stiamo assistendo a una ulteriore interventi di modifica su quell'articolo 12 interventi di modifica che ci consentono di dire che forse il fascicolo sanitario elettronico ha oggi cambiato la sua funzione nasce come strumento di cura e diventa oggi sempre più uno strumento di governo della sanità pubblica e anche uno strumento di ricerca e questo lo vinciamo chiaramente quando andiamo a guardare tutte le finalità che l'istituzione del fascicolo sanitario elettronico vuole conseguire le linee guida sull'attuazione del fascicolo sanitario elettronico pubblicate dal ministero della salute due anni fa proprio al fine di dare un'accelerata al sistema e consentirci di rispettare le scadenze di piano chiarisce in termini inequivocabili che il fascicolo sanitario elettronico deve diventare il punto unico ed esclusivo di accesso per i cittadini ai servizi sanitari nazionali oltre a ciò deve creare un ecosistema di servizi basati sui dati per i professionisti per la diagnosi per la cura per un'assistenza sempre più personalizzata sul paziente quanto è lontano questa previsione rispetto ai dati di realtà con i quali ci siamo confrontati dalle esperienze del dottor Clerici che condiviso ma che ognuno di noi sperimenta sulla propria pelle è certo però che questo è uno dei campi di maggiore evoluzione teniamo presente che anche la regolamentazione sull'alimentazione e l'attivazione del fascicolo sanitario è cambiata proprio perché lo strumento ha cambiato la sua finalità non è più solo uno strumento di cura individuale è uno strumento di governo della sanità uno strumento di ricerca e quindi questo ha delle implicazioni sul fatto ad esempio che benché sia necessario il consenso per la consultazione del fascicolo ai fini di cura oggi come vedremo subito nella slide successiva il fascicolo è non solo attivato automaticamente ma anche alimentato automaticamente permane un diritto dell'assistito di oscurare i propri dati all'interno del fascicolo e questo è sancito espressamente anche da un regolamento del 2023 che disciplina il cosiddetto fascicolo sanitario 2.0 che è quello diciamo nella versione voluta di cui maggiormente parlo oggi vi sono solamente una serie di dati particolarmente sensibili per i quali l'oscuramento opera di default che sono quelli che attengono all'interazione volontaria della gravidanza alle vittime di atti di violenza sessuale o pedofilia le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sono dei casi espressamente previsti in cui la regola è l'oscuramento in tutti gli altri casi dovrà esserci una richiesta specifica quindi tornando al grande cambio di paradigma oggi il fascicolo sanitario elettronico è attivato e alimentato automaticamente il decreto legge del 2020 ha eliminato il requisito del consenso dell'assistito quindi è un'alimentazione automatica e questo è una dimostrazione palmare di come il fascicolo sia passato da uno strumento per la persona a uno strumento per la pubblica amministrazione di governance sanitaria e anche di conseguimento di possibili applicazioni dell'LLM anche in questo ambito per quanto riguarda il dato tuttora reale di scarsa utilizzo del fascicolo da parte dei cittadini io ho dei dati aggiornati al 2022 e solo tre regioni avevano raggiunto la soglia di utilizzo del 50% cioè solo in tre regioni in Italia i pazienti dichiaravano di aver aperto il proprio fascicolo sanitario elettronico quindi se c'è uno scarso utilizzo addirittura delle reticenze delle diffidenze del negazionismo sul utilizzo del fascicolo sanitario elettronico come accernava il dottor Clerici in apertura insomma ci sono anche dopo i Novax ci sono anche i no fascicolo sanitario elettronico al di là di questo dato sul piano delle istituzioni invece il sistema sicuramente sarà implementato e questo lo attesta il fatto che sono state introdotte delle responsabilità in capo ai soggetti che concorrono all'alimentazione del fascicolo sanitario per la mancata intempestiva o in esatta alimentazione dello stesso questa è una novità del decreto del 2023 che è proprio legata ovviamente all'esigenza pressante di rispettare gli obiettivi di piano anche su questo fronte un altro dato che mi sembra estremamente rilevante è che la decretazione ministeriale che riguarda ad esempio i meccanismi di valutazione qualitativa e di appropriatezza dell'attività dei soggetti privati accreditati quindi delle strutture private o anche pubbliche in realtà che ottengano l'accreditamento tra gli strumenti tra i criteri per valutare la qualità c'è anche la tempestiva e continua alimentazione del fascicolo il mio tempo in realtà è finito quindi andrò velocissima nell'ultimo passaggio il mio ragionamento il fascicolo è il contenitore di tutti i dati i dati sono necessari per alimentare gli strumenti di AI e quindi dal fascicolo sanitario all'applicazione dell'intelligenza artificiale per l'elaborazione dei dati in esso contenuto il passo è molto breve e qua il discorso richiede di guardare un po' all'orizzonte che ci si profila davanti con gli interventi dell'Unione Europea penso in primo luogo all'AI Act che badate bene per quanto ci riguarda specificamente per quanto riguarda in particolare l'utilizzo di chat GPT ad esempio non include questo strumento tra quelli ad alto rischio sono ad alto rischio solamente i software diciamo qualificabili come 2A ai sensi del regolamento sui medical device e per espressa indicazione del Parlamento Europeo la intelligenza artificiale generativa come per esempio la GPT non verrà considerata come ad alto rischio e quindi non dovrà essere compliance con i criteri più rigidi a cui sono sottoposte queste tecnologie fermo all'esigenza di trasparenza e quindi diciamo dare conto che un certo risultato è stato realizzato con l'utilizzo di intelligenza artificiale generativa e anche pubblicare i copyright e tutte le altre esigenze di trasparenza che vengono stabilite vado velocemente sul disegno di legge sull'intelligenza artificiale che è stato approvato dal nostro governo ad aprile proprio per conformarci all'AI Act e qui vediamo sanciti alcuni principi importanti ovviamente qui ho isolato le tre disposizioni che riguardano specificamente l'ambito sanitario ad esempio la chiara l'intento di utilizzare i sistemi di AI quelli che contribuiscono al miglioramento del servizio sanitario nazionale alla prevenzione e alla cura delle malattie nel rispetto ovviamente dei diritti delle persone l'affermazione quantomeno in principio che l'AI non può creare discriminazioni all'accesso alle prestazioni sanitarie e molto importante poi bisognerà capire tecnicamente come questo CAVEAT possa essere rispettato il paziente deve essere informato non solo se l'erogazione della cura avviene attraverso sistemi di AI ma anche sui relativi vantaggi in termini diagnostici terapeutici e sulla logica decisionale che viene utilizzata un altro aspetto è il carattere ovviamente ancillare dell'utilizzo di questi strumenti rispetto al medico la cui decisione resta centrale devo andare veloce quindi mi riferisco all'agenas per esempio come strumento come ente di riferimento per la progettazione e realizzazione messa in servizio di una piattaforma di AI per il supporto alle finalità di cura in particolare per l'assistenza territoriale che è un'altra previsione di questo disegno di legge ancora a livello di disegno e quindi possiamo solo parlarne in potenza mi pare però che da quanto ho detto finora le grandi sfide nell'uso delle AI in sanità restino sempre invariate garantire l'uguaglianza nell'accesso combattere l'esclusione digitale stabilire in modo chiaro le responsabilità e limitare i rischi di bias e discriminazioni connessi all'uso di queste tecnologie in ambito sanitario sulla esigenza di garantire l'uguaglianza mi riallaccio a quello che diceva il dottor Calice all'inizio dipende da quale tipo di sistema sanitario abbiamo in mente noi studiosi di diritto sanitario ci teniamo molto a mantenerne le caratteristiche insomma di sistema ovviamente basato sull'uguaglianza di accesso un sistema universalistico e ovviamente questo l'uguaglianza nell'accesso è una condizione necessaria anche nel rispetto per evitare differenziazione a livello regionale il tema dell'esclusione digitale è all'attenzione di tutte le istituzioni anche sovranazionali e quindi l'esigenza di garantire l'alfabetizzazione digitale l'accesso a internet veloce diventa fondamentale se pensiamo che le persone che hanno più bisogno di salute per esempio gli anziani i gruppi marginali le persone con disabilità sono anche quelle che hanno molto spesso meno possibilità di accedere alle piattaforme digitali e questi sono temi con cui dobbiamo fare i conti quando parliamo di intelligenza artificiale in ambito sanitario sul tema delle responsabilità finalmente l'Unione Europea sta rispondendo alle richieste di intervento che da anni si susseguono in argomento c'è una proposta direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti riflettosi e una proposta direttiva sull'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale legate all'intelligenza artificiale e quindi i campi sono sicuramente all'attenzione del legislatore per limitare i rischi di bias e le discriminazioni connesse all'uso dell'AI in ambito sanitario resta il tema dei dati il corretto sviluppo dei dati che vanno ad alimentare questi algoritmi vanno ad addestrare questi algoritmi e qui un contributo fondamentale lo potrebbe giocare l'European Health Data Space di cui come centro studi interdisciplinari di diritto sanitario ci siamo già occupati pensate che è lo primo spazio comune di dati che è stato creato a livello europeo ed è proprio quello di dati sanitari per concludere mi pare che l'utilizzo dell'AI in ambito sanitario esponga a tanti rischi di iniquità qui cito un articolo di una giovane studiosa all'università di Amsterdam che recentemente ha avuto l'occasione di discutere nel corso di un incontro a questo dedicato i rischi che si creano dell'ineguità in ambito sanitario con l'utilizzo di intelligenza artificiale sono tantissimi si parla addirittura di un circolo vizioso delle possibili inequità in ambito sanitario perché quelle che derivano per esempio già dalla scarsa rappresentazione di alcune categorie di popolazione nei trial clinici finiscono per riversarsi anche nell'utilizzo di questi strumenti che magari non vengono proposti a persone che si ritengano non attrezzate sul piano anagrafico sul piano culturale per utilizzare questi strumenti finendo per creare un circolo vizioso di iniquità che va ad autoalimentarsi ecco questa penso sia la maggiore sfida con la quale dobbiamo fare i conti sul piano giuridico scusatemi se ho preso più tempo di quello che mi era stato assegnato e vi ascolto volentieri benissimo ringraziamo la professoressa Flaminia a Periobella il dialogo tra discipline tra cui le discipline giuridiche tecniche e cliniche è indispensabile anche per alimentare la fiducia di una collaborazione tra queste e non di sbarramenti a volte presi a pretesto sappiamo che il tema della privacy è a volte una giustificazione per inefficienze per cui un ufficio non comunica un dato all'ufficio che sta di fianco e tuttora ci sono richieste ad esempio di originali cartacei che in epoca di fascicolo sanitario elettronico dovrebbero essere superati questa naturalmente è la speranza del futuro e cerchiamo di tenere destra l'attenzione sull'attuazione pratica del diritto anche attraverso questi percorsi per cui è molto importante questo dialogo oggi avviato adesso passo la parola a Davide Mazzoni Don Tullio Poseppio non si è potuto collegare credo che non si potrà collegare dall'Irlanda invece il collega Davide Mazzoni il ricercatore del dipartimento di oncologia ed emato-oncologia ci parlerà dell'esperienza di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'analisi qualitativa prego sì buonasera a tutti in questa presentazione insomma io mi chiamo Davide Mazzoni appunto come ha detto sono uno psicologo sociale e quello di cui vi parlerò questa sera è appunto un'esperienza di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'analisi qualitativa come ha fatto un primo collega precedentemente chieso scusa ai colleghi collegati che si occupano di intelligenza artificiale e di analisi qualitativa forse un po' di più a coloro che si occupano di analisi qualitativa perché potranno avere forse uno sguardo più critico rispetto a questa presentazione ma procediamo dunque quindi quello che io come abbiamo detto con l'intelligenza artificiale si intendono moltissime copse e quindi quello su cui io mi soffermerò e lo stesso anche con l'analisi qualitativa per cui quello su cui io mi soffermerò sarà in particolare un tipo un approccio all'analisi qualitativa cioè l'analisi qualitativa tematica applicata in particolare a dati testuali e per quanto riguarda l'intelligenza artificiale mi contenderò sul già menzionato più volte c'è GPT quindi per quanto riguarda visto che le persone che mi hanno preceduto e anche le persone connesse provengono da diversi ambiti disciplinari mi sembra comunque doveroso fare una breve introduzione su che cosa intendiamo con analisi qualitativa non esiste un'unica definizione in letteratura ed esiste una grande eterogeneità di approcci e metodi tanto che quando faccio lezioni io utilizzo spesso questa immagine un'altra insomma però comunque di una foce a delta dove ci sono vari rivoli vari diciamo filoni che a volte si toccano si intersecano si suddividono in diverse correnti anche a seconda dell'oggetto di studio dell'ambito disciplinare in cui vengono utilizzati del periodo storico in cui sono nati quindi capite si tratta di una realtà molto eterogenea al suo interno però esiste almeno un criterio molto utilizzato per definire che cosa è un'analisi qualitativa che è il fatto che non presuppone necessariamente la trasformazione di fenomeni studiati in numeri e quindi questo tipo di analisi presuppone un ruolo molto importante da parte del ricercatore stesso che utilizza questa modalità di analisi soprattutto per studiare fenomeni che difficilmente possono essere indagabili e quantificabili e anche fenomeni complessi inclusi quelli a cui facciamo riferimento in questa webinar particolarmente legati all'aspetto clinico quindi per esempio l'esperienza soggettiva della salute e della malattia da parte di un paziente oppure qualunque altro aspetto oppure compresa anche una seduta oppure un'intervista un'interazione con i contesti di cura può essere oggetto di analisi qualitativa ci sono diverse applicazioni dell'intelligenza artificiale nell'analisi qualitativa che possono riguardare tutte le fasi di un progetto qualitativo se consideriamo per esempio qui sulla destra vedete in azzurro le fasi principali di uno studio basato su interviste l'intelligenza artificiale può intervenire a supporto dello svolgimento di ciascuna di queste fasi quindi dalla fase di progettazione le interviste la trascrizione l'analisi il report ci sono molti vantaggi potenziali nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in queste fasi primo tra tutti adesso ne cito qualcuno comunque primo tra tutti viene più volte sottolineata in letteratura la riduzione del tempo ci sono fasi che richiedono molto tempo ad esempio la fase di trascrizione immaginate trascrivere un'intervista della durata di un'ora può richiedere anche due tre ore dalla mia esperienza si è fatta abbastanza rapidamente ecco con alcuni software attualmente è possibile trascriverlo in 30 secondi avendo per esempio la possibilità di tracciare voci diverse all'interno dell'intervista quindi capite quanto tempo viene risparmiato ci sono diversi o meglio i sostenitori dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale anche in fase di analisi parlano di minori bias io direi più che altro che si tratta di bias diversi che può avere l'intelligenza artificiale e chiaramente una ripercussione che si possono analizzare dataset più ampi e che possono essere interrogati con facilità ad esempio tramite una chat ponendo appunto delle domande sotto forma di prompt di cui è già stato parlato che sono già affrontati negli interventi precedenti quindi tra l'analisi qualitativa dicevo che mi soffermerò sull'analisi qualitativa tematica perché è un metodo che viene considerato come posso dire di base cioè un metodo qualitativo iniziale che i ricercatori dovrebbero padroneggiare fornendo competenze essenziali che possono poi essere utilizzati in altri metodi di ricerca qualitativa quindi partire da questo e utilizzeremo in questa presentazione il CAGPT che non è stato specificamente progettato per l'analisi di dati qualitativi ci tengo ad essere chiaro su questo però come poi succede anche per altri utilizzi di CAGPT negli ultimi uno o due anni il suo possibile utilizzo a questo scopo ha suscitato grandi interessi da parte dei ricercatori in realtà guardando la letteratura per il momento si trovano molti atti di convegno preprint gli articoli realmente pubblicati sulle riviste scientifiche internazionali sono ancora devo dire pochi ecco qui sulla sinistra trovate come si svolge un'analisi tematica manuale qui non ho riportato riferimenti insomma questo è l'analisi qualitativa tematica come l'hanno definita Brown e Clark nel 2006 e poi ripresa da vari contributi e prevede queste fasi che non va questa sequenza non va intesa in modo rigido ma ovviamente si può anche tornare indietro e c'è scritto increasing engagement with the data set cioè anche il ricercatore attraversando queste fasi diventa più consapevole più coinvolto all'interno del data set e sulla destra come io immagino l'analisi con con GIAGPT e quindi c'è una parte ovviamente di Prom Design che viene inserita all'interno di questa analisi tematica e c'è un svolgimento delle altre fasi che o diciamo non vengono svolte direttamente dal ricercatore stesso o comunque vengono decisamente accelerate ecco siccome si parlava di esperienze questo è un po' il titolo del contributo ho pensato di portarvi anche un esempio di applicazione di GIAGPT nell'analisi di dati testuali e quali risultati potrebbe dare allora per fare questo abbiamo ci siamo basati su un dataset che era già stato analizzato e anzi aveva dato già origine ad una pubblicazione quindi era già stato analizzato tramite analisi qualitativa tematica analisi fatta appunto dai ricercatori in carne e ossa potremmo dire che affrontava domande e offerte di sostegno sociale in un forum online per pazienti con una certa un lupus eritematoso sistemico in questo caso adesso nelle slide non ho inserito una trattazione degli aspetti etici però lo dico insomma gli articoli e i contenuti erano liberamente accessibili senza nessun accesso quindi pubblicati dai diretti interessati sono stati comunque anonimizzati e sono stati è stato anche richiesto il consenso a suo tempo da parte del detentore del copyright del sito insomma ci abbiamo preso una serie di accorgimenti per dire che potevamo utilizzare questi tant'è che erano già stati utilizzati anche per scopo precedente quindi in totale sono 118 post l'analisi non vado nel dettaglio non vi presento gli specifici prompt però sono stati utilizzati dei criteri che le ricerche attuali che hanno cercato di applicare l'analisi appunto cioè GPT all'analisi qualitativa tematica hanno utilizzato quindi nella stesura di questi prompt alcuni elementi che devo dire fanno la differenza nel senso che se noi chiediamo a CiaGPT come voi probabilmente fate già quali sono i temi principali di questo contenuto CiaGPT come dicevo prima dal professor Plerici è già in grado di fornirci alcuni temi principali ma se noi utilizziamo una stesura di prompt molto dettagliata chiedendogli di assumere per esempio il ruolo di CiaGPT intendo dire che si chiede a CiaGPT di assumere il ruolo di un ricercatore che fa questo tipo di analisi i risultati sono diversi e quindi anche facendo questi prompt voi sapete che CiaGPT tiene traccia a una memoria delle interazioni avvenute e quindi è possibile anche chiedere poi di individuare i sottotemi o le citazioni che sostengono la creazione di ciascun tema o sottotema allora questo vado diretto insomma per farvi vedere un po' un'idea di risultati o chi è meramente qui non vi presento il dettaglio però volevo solo mostrarvi i temi che sono stati rilevati che erano stati rilevati nell'analisi precedente con analisi qualitativa diciamo ho scritto human cioè quella fatta in modo potremmo dire classico e quella invece effettuata con CiaGPT vedete li ho riordinati a dire la verità per avere maggiore facilità di confronto però trovate l'etichetta che viene data da CiaGPT al tema in confronto con l'etichetta precedente e possibile vedere anche una certa corrispondenza soprattutto su l'aspetto relazionale nel primo tema l'aspetto informativo l'aspetto emotivo ok che e anche controllando poi i sottotemi e le quotes cioè le citazioni ecco le parti di testo che vengono usate supporto di ciascun tema c'è un'ampia sovrapposizione c'è una grossa differenza nella parte finale perché mentre per esempio i ricercatori avevano identificato giving e contribution cioè erano i post dove la la persona o chi scriveva si rendeva disponibile a fornire un aiuto ok non erano richieste di aiuto quindi era stato classificato come un tema a parte in questo caso invece viene classificato come tema a parte strumento supporto strumentale sarebbe quello concreto ecco questo tipo di supporto a dire la verità quando ho visto che l'aveva trovato cioè GPT pensavo fosse un errore perché onestamente non l'avevo rilevato nella lettura dei testi però lui invece considerava come strumento come supporto strumentale uno che era stato classificato prima come richiesta di informazioni però effettivamente si trattava di richieste di informazioni su temi concreti per esempio come avere un aiuto finanziario data la mia condizione come faccio a ottenere una certa esenzione ecco questo era un aspetto molto concreto quello finanziario a volte anche in letteratura viene incluso all'interno di quello strumentale e quindi erano su elementi molto concreti quindi posso dire che non aveva fatto di fatto errori cosa che invece è successa insomma in alcuni che hanno effettuato questo tipo di analisi però non c'erano errori che abbiamo riscontrato e abbiamo ritrovato anzi un'ampia sovrapponibilità da parte dei risultati ottenuti da CIGPD con quelli ottenuti dal ricercatore umano ho inserito in stabilità dei risultati non nel senso che i risultati cambiavano mentre li leggevo ma nel senso che bastava veramente poco nella definizione del prompt cioè nell'input che noi abbiamo a CIGPD per ottenere risultati diversi per cui e poi un'altra difficoltà chiaramente nella descrizione dettagliata del processo di analisi che invece nel report di uno studio qualitativo è estremamente importante rimangono alcune questioni aperte che sono quindi quella di anche come interpretare le differenze che si possono ottenere da parte umana e come utilizzare anche ecco in modo positivo queste differenze che si ottengono rispetto all'analisi che viene effettuata human driven potiamo dire versus eye driven e come riportare il processo di analisi in modo dettagliato cosa che ho già detto e poi anche una questione più ampia se vogliamo sul fatto che questa analisi con CIGPD sia davvero qualitativa cioè veramente CIGPD opera senza dare una qualche utilizzare i numeri diciamo così e ancora di più l'analisi qualitativa presuppone anche alcuni elementi per esempio l'analisi qualitativa tematica di cui abbiamo parlato adesso se guardiamo come ne parlano gli autori che hanno approfondita maggiormente dal punto di vista metodologico parlano per esempio della riflessività che deve avere anche chi conduce l'analisi in quanto è in grado di mettere in atto una riflessività secondo quali che sono gli standard dei ricercatori qualitativi in quanto è in grado CIGPD io ho insegnato come poco probabile al momento secondo gli standard attuali di quelle che sono aspettative dei ricercatori che si occupano di analisi qualitativa e anche che ritengo poco probabile una sostituzione ok dello strumento rispetto al ruolo del ricercatore mentre invece ritengo più probabile una definizione maggiore dei criteri delle linee guida nel effettuare questo tipo di analisi che quindi diventeranno più affidabili di quanto sono adesso e prevedo nel breve termine un aumento degli studi qualitativi che utilizzeranno questi software esistono anche di software ad hoc io adesso mi sono focalizzato su questo ma stanno nascendo e stanno diffondendo sempre di più questi software proprio per l'analisi qualitativi dati testuali utilizzare anche materiali molto differenti e anche approcci di analisi diversi come abbiamo detto l'analisi qualitativa non è solo l'analisi tematica ce ne sono molti e penso che un ulteriore sviluppo sarà effettuare i sentimenti analisi se tanti altri che possono essere utilizzati vi ringrazio ringraziamo Davide Mazzoni del nostro dipartimento e intanto facciamo una piccola operazione tecnica sempre il dottor di Taranto mi aiuta e si prepara a parlare è la professoressa Silvia Riva sull'intelligenza artificiale e bias strutturali per i cittadini del Global Thought problemi e prospettive a Silvia sono debitore dei primi del primo avvio all'uso del video nella attività di formazione e di ricerca in medicina e adesso ci siamo trovati anni dopo a riprendere il discorso su un nuovo strumento quello dell'intelligenza artificiale sorrido buonasera a tutti perché in quella avvio al video avevi filmato una gallina che avevi ipnotizzato se ben ricordi e io parlerò di polli invece allora adesso spiegherò perché allora innanzitutto io non mi occupo di medicina ma mi occupo di mediazione culturale e quindi è stato naturale riflettere sul rapporto che il cambiamento di paradigma introdotto dall'LLM il rapporto che questo cambiamento di paradigma ha avuto rispetto ai bias culturali sui pazienti di un mondo che non è totalmente rappresentato nel web per mancanza di dati bisogna essere prudenti naturalmente e Carlo prima nella sua introduzione aveva invitato a pensare che in abito sanitario non possiamo pensare di sostituire la complessa attività di mediazione culturale in favore dei pazienti stranieri con semplici traduzioni automatiche come appunto docente di mediazione culturale sono particolarmente attenta a questo tema e da tempo mi sto occupando di interrogare l'inclusività culturale dei paesi del sud del mondo a partire dalla loro presenza nei dati nei grandi dati quelli che alimentano appunto l'intelligenza artificiale e da questo punto di vista possono essere fatte alcune considerazioni che farò a partire da una sola area che è quella che io conosco meglio e che è più frequento che quella del continente africano e che ha un rapporto anche con la sanità italiana nella misura in cui molti pazienti sono migranti la prima considerazione mette in luce a livello macro un problema di strategie politiche un report della Deloitte di pochissimi mesi fa del 24 intitolato AI for inclusive development in Africa sottolinea in modo piuttosto ottimistico i progressi dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario in quel continente nelle prime righe del report vengono elencati dei casi di successo basati soprattutto sui modelli linguistici di grande dimensione e si scopre che l'Africa attualmente conta oltre 2400 aziende di intelligenza artificiale di cui il 40% fondato negli ultimi cinque anni e per quanto riguarda il settore medico in particolare si legge che in Sudafrica gli scienziati dell'Università di Johannesburg che è quella più avanti nello sviluppo dell'intelligenza artificiale l'hanno utilizzata per prevedere i periodi di picco del Covid-19 aiutando a sviluppare misure politiche più efficaci in Kenya c'è una start-up innovativa chiamata Sofibot che impiega chatbot guidati dall'intelligenza artificiale per gestire richieste relative alla salute sessuale riproduttiva nonostante questi casi di successo resta il tema delle strategie di integrazione e collaborazione a livello continentale e globale il report ci dice che nel 2023 l'Unione Africana che è l'Unione Europea in Africa aveva convocato esperti per redigere una strategia continentale per l'intelligenza artificiale ma la maggior parte dei paesi dell'Africa subsahariana non ha ancora sviluppato strategie o piani politici nazionali in materia manca una direzione chiara all'interno di ciascun paese anche perché appunto l'Africa non è un paese ma è un continente composta da molti paesi cosa che noi spesso ci dimentichiamo e spesso c'è una difficoltà di collaborazione e integrazione dell'intelligenza artificiale tra i settori diversi dello sviluppo di questi paesi e in particolare l'elemento economico ovviamente ha un peso enorme che impedisce spesso coordinamento necessario e soprattutto la definizione di priorità fra le priorità si sottolinea che la ricerca applicata deve essere particolarmente implementata in modo che utilizzi adattivamente gli strumenti e le tecniche dell'intelligenza artificiale esistenti per fornire soluzioni africani interne ai problemi africani e sempre questo rapporto ci ricorda che questo deve avvenire soprattutto nei settori dell'agricoltura dell'istruzione del commercio e della salute e questo anche per raggiungere quegli obiettivi che le Nazioni Unite si sono date nell'orizzonte temporale del 2030 attraverso appunto l'idea degli SDG degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile quindi quello che dovrebbe fare l'Africa è di guardare al proprio contesto locale per trarre ispirazione innovativa utilizzare tale innovazione localizzata influenzando la portata globale dei dati e questo come potete ben immaginare non è cosa di domani assolutamente quindi questo a livello politico a livello invece sempre macro estremamente connesso a questa prima considerazione c'è un dato che è già emerso qui e là dagli interventi precedenti cioè la carenza dei volumi di produzione di contenuti online una mancanza di volumi anche per il fatto di utilizzare talvolta lingue che non sono assolutamente prese in considerazione nemmeno da Dipol che ha un elenco di lingue da tradurre enorme ma non è solo questo non è soltanto una questione linguistica c'è una scarsità di penetrazione e di rappresentatività dei cittadini dell'Africa a livello generale e questo rende ovviamente i sistemi di intelligenza artificiale applicati a questo continente e ad altri del sud del mondo meno accurati per chi per gli utenti locali un giornalista di alto profilo il direttore delle pubblicazioni dei media di un'agenzia che si chiama Good Governance Africa che si chiama Lloyd Cutts pochi giorni fa ha scritto un post in cui sosteneva che una intelligenza artificiale distorta sia addestrata per la gran parte con dati e modelli di intelligenza artificiale provenienti dal nord del mondo con la conseguenza sovra rappresentazione dei dati demografici delle preferenze delle abitudini culturali e dei comportamenti di queste popolazioni può esacerbare le divisioni sociali in un continente in cui coesistono culture e comunità diverse quindi anche diciamo una ricaduta all'interno del continente da un punto di vista politico per essere più riassuntivi i dati che attualmente abbiamo a nostra disposizione soffrono di un bias culturale marcatissimo che rende l'uso degli LLM in alcuni contesti del tutto inaccurati e inefficaci spesso si è sottolineato come il pregiudizio algoritmico del nord del mondo abbia gravi implicazioni etiche portando a trattamenti iniqui e discriminatori in vari settori spesso si citano le pratiche di assunzione le decisioni di prestito ma questo è vero anche per quanto riguarda altri settori che si incrociano con le scienze umane non parlo della medicina diciamo della sala operatoria ma della psichiatria per esempio o addirittura posso pensare all'arte all'urbanistica faccio un piccolo esempio prima di parlare in maniera così da profana di psichiatria pensando per esempio al patrimonio artistico l'idea di patrimonio così come è veicolato dall'occidente è un un bene una monnalisa culturale da preservare perché unico e non riproducibile ma questa concezione dell'articolo artefatto del patrimonio è totalmente alieno alla cultura tradizionale africana che è un'idea di trasmissione che non passa dalla conservazione ma invece proprio dalla riproducibilità e della ciclicità e quindi concludo il mio intervento con una terza considerazione che si riallaccia proprio a queste considerazioni culturali che devono essere sempre tenute presenti che forse in questo momento difettano all'interno dei grandi dati che abbiamo a disposizione e questa considerazione riguarda l'idea di poter interagire con un paziente attraverso l'LM per orientarlo verso una cura psicologica psichiatrica adeguata quindi finisco il mio intervento con un aneddoto che deve essere preso come una provocazione e che mi è capitato sul serio allora quello della medicina come ho detto non è il mio campo ma ho letto con attenzione alcune opere di Franz Fanon che è il padre dell'etnopsichiatria di quella disciplina che ha sottolineato la specificità della cura di certi disturbi collegandoli all'ambiente culturale di insorgenza e non riducibili a strumenti psichiatrici universalmente riconosciuti questa è una definizione standard Fanon aveva messo in luce già negli anni 50 il ruolo delle scienze psichiatriche nella riproduzione dei ruoli di potere rivelando come lo schema corporeo delle persone di colore sia inizialmente costruito secondo uno schema storico raziale purtroppo queste considerazioni sono ancora del tutto attuali soprattutto pensando all'addestramento che l'intelligenza artificiale ha avuto attingendo appunto a questi grandi dati che provengono per la maggior parte dal nord del mondo allora l'aneddoto vengo all'aneddoto una mia amica psicologa che lavorava a Terre Nuove un servizio di etnopsichiatria e consulenza psicologica attivo dal 1999 a Milano mi ha chiesto qualche anno fa se potessi assistere senza troppo orrore al sacrificio di un pollo vivo davanti a un suo paziente trattare la sofferenza mentale di pazienti provenienti da culture tradizionali utilizzando i loro sistemi di rappresentazione di credenze sembrava essere l'unico modo per questa prospettiva per guarire questa forma di depressione è una pratica che trova in Tobinathan che è un professore di psicologia clinica all'università a Parigi 8 e direttore del centro Georges Devreux un fervente sostenitore e sostiene lo cito in un dato universo esistono sistemi per rappresentare il male il disordine e tecniche per agire su questi disturbi per uno psichiatra occidentale il mondo contiene solo soggetti umani e la depressione è universale ma nelle culture africane ad esempio i soggetti importanti possono essere anche il clan la stirpe il mondo è popolato da esseri soprannaturali in questo modo il concetto di depressione diventa obsoleto e le cure possono passare ad esempio attraverso lo strumento del sacrificio rituale in altre parole la malattia non può essere dissociata dalla teoria che la descrive e più in generale dall'universo culturale che la contiene e allora ho voluto fare una prova e ho chiesto ieri a chat cpt4o che ho usato solo per la scrittura non ho usato l'omnia due cose allora dunque la prima è stata forre questa domanda come si cura la depressione in Africa e il chatbot mi ha inizialmente risposto così adesso non vi leggo tutto perché era molto lungo però la prima risposta è stata questa la cura della depressione in Africa varia notevolmente a seconda della regione delle risorse disponibili e delle pratiche culturali tuttavia ci sono alcuni approcci comuni uno medicina tradizionale in molte comunità i guaritori tradizionali giocano un ruolo fondamentale nella gestione della depressione utilizzano erbe medicinali rituali e consulenze spirituali due servizi di salute mentale in alcune aree urbane in paesi con sistemi sanitari più sviluppati ci sono cliniche ospedali che offrono servizi di salute mentale incluse la terapia farmacologica e psicoterapia come la terapia cognitivo comportamentale tre supporto della comunità adesso non vi leggo tutto quattro iniziative non governative cinque telemedicine supporto online sei educazione e sensibilizzazione e concludeva ogni intervento deve essere adattato al contesto culturale e le risorse locali per essere efficace benissimo poi ho fatto una seconda domanda molto meno accademica pensando mettendomi nei panni di una persona che non sta bene africana e che si rivolge a chat cbt pensando di ricorrere ai metodi tradizionali che sono ricordo accuratamente evidenziati nella risposta precedente quindi ho posto la domanda in italiano posso curare la mia depressione sacrificando un animale e la risposta è stata no sacrificare un pollo non è metodo efficace o consigliato per curare la depressione la depressione è una condizione medica seria che richiede un approccio professionale per il trattamento è importante rivolgersi a un medico a uno psicologo a uno psichiatra per ricevere la giusta diagnosi e il trattamento appropriato le terapie efficaci possono includere la psicoterapia i farmaci antidepressivi i cambiamenti nello stile di vita e le tecniche di gestione dello stress naturalmente la domanda è chi ha ragione l'intelligenza artificiale della seconda risposta oppure l'approccio del professor Tabinaton credo entrambi a loro modo ma per ora le LLM non riescono a creare una sintesi e questa mi sembra la carenza in questo momento per quanto riguarda appunto una parte del mondo che ha una visione che non è stata in grado per ragioni storiche economiche di integrare nei grandi dati che negli anni ha raccolto il web giusto per completezza vi informo che per fortuna il pollo non l'abbiamo sacrificato anche perché il paziente è tornato in Africa e non si sa come gli è passata la depressione vi ringrazio benissimo questi polli magici molto importante Silvia per gli orizzonti che ci apri perché naturalmente ogni sistema è centrato sull'osservatore quindi abbiamo imparato a dubitare che la realtà sia unicamente oggettiva allora siamo verso la conclusione ma mancano ancora delle parti importanti io volevo far fare un saluto molto rapido a Don Tullio che è collegato dall'Irlanda Don Tullio è amico di molti di noi cappellano dell'Istituto dei Tumori e componente della Pontificia Accademia per la Vita Tullio se sei collegato soltanto un saluto eccoci devi attivare l'audio ok ci sono benissimo ok parlo sì ok saluto tutti chiedo scusa del ritardo del collegamento però appunto sto facendo questo corso qua in Irlanda non sono qua per le ferie purtroppo però ci sarà tempo in ogni caso sto facendo dicevo questo corso che interessa comunque anche l'intelligenza artificiale perché l'approfondimento è legato al tema della spiritualità ed elettica in un contesto multidisciplinare nell'ambito della cappellania ospedaliera nella quale sto lavorando è collegata all'ospedale universitario di Cork dove mi trovo appunto stiamo anche riflettendo e ci stiamo confrontando precisamente sul tema dell'intelligenza artificiale dicevo legato al tema della spiritualità ed elettica quindi la conferma per me per Carlo di amici insomma questo tema sta crescendo sempre di più e non è un caso che all'interno della Pontificia Academia per la Vita forse forse lo sapete appunto è nato e sorto questo Rom Coleai che si sta diffondendo sempre di più e di questo sono ovviamente contento orgoglioso anche di poter condividere con Carlo e con gli amici questo tema che è nuovo anche legato all'ambito particolarmente inerente al tema della Pastoral Care quindi ecco sono contento almeno di poter salutare tutti voi sono contento della presidenza e anche dei lavori che si stanno svolgendo che da quel che mi sembra di capire sono assolutamente interessanti e aggiungo centrati sul problema grosso che si sta affrontando e dibattendo precisamente come integrare l'etica in un tema così particolare e complesso con l'intelligenza artificiale grazie grazie Tullio per il saluto ci tenevamo molto e adesso abbiamo l'intervento di Edoardo Ares e di Alessandro Pezzano che voglio ringraziare in modo speciale sia per il tempo che hanno dedicato sia per il grandissimo lavoro che da mesi stanno facendo sulla newsletter di cui vi parleranno prego ciao buonasera a tutti intanto grazie per per essere tutti qui una serata veramente interessante ricca di stimoli e poi anche direi ricca di diverse discipline la sanità la giuriscrudenza due parole su quello che faccio io mi introduco brevemente io arrivo ad un ambito completamente diverso io sono fondatore e comministratore di una start up che si occupa di intelligenza artificiale per la comunicazione delle grandi aziende quindi ambito corporate però stiamo portando avanti un progetto particolare con Carlo Alfredo Clerici che ringrazio e Alessandro Pezzano che è qui con me di cui vorrei parlarvi un po' questa sera lo introduciamo brevemente cercheremo di andare il più rapidi possibili perché comunque il webinar è molto lungo e nonostante gli interventi dei colleghi estremamente interessanti abbiamo quasi superato le due ore allora parliamo di Aigora Aigora questo è il nome che abbiamo voluto dare al nostro progetto è un progetto di divulgazione che noi stiamo portando avanti partiamo brevemente dalla mission e dalla vision quindi una volta fatto il grounding del progetto avendolo messo a terra avendo definito quali sono le ineguide ci siamo posti tre obiettivi principali educare quindi fornire risorse educative per gli operatori sanitari ricercatori ma anche per i cittadini abbiamo voluto tenere anche un respiro molto generalista promuovendo una maggior comprensione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale con un particolare focus ovviamente poi su medicina e cura abbiamo un obiettivo di tenere aggiornate le persone di offrire informazioni accurate verificate e validate sull'AI che il nostro team di persone composto da me da Carlo e da Alessandro ma anche da alcuni collaboratori come la dottoressa Ghironi che ha parlato poco fa si occupa di mettere insieme ogni settimana informazioni applicate alla sanità aiutando i nostri lettori a rimanere informati sugli sviluppi più recenti dell'intelligenza artificiale in questo ambito l'altro punto è quello di cercare di capire quali possono essere gli spunti applicativi esplorare le applicazioni in ambiti sanitari inclusa la psicologia la cura e ottimizzando eventualmente i processi ecco Igor Amira un po' diventare una una risorsa per gli operatori del settore ma come avrete capito un po' in generale per tenere aggiornati un pubblico che possano a tutti gli effetti mass target arriviamo al nome arriviamo al nome perché abbiamo scelto Igor A sicuramente appunto abbiamo la parte di AI come hanno giustamente menzionato prima i colleghi ecco magari utilizzate in maniera impropria ma alla base della divulgazione alla base della proprio etimologicamente diffusione verso una moltitudine ci tenevamo anche includere nel nome quale fosse il topic specifico su cui poi saremmo andati a lavorare e quindi abbiamo deciso ovviamente di comporre questa quest'unione di due parole la prima appunto è AI intelligenza artificiale mentre al seconda si rifà un po' l'agora greca il cuore della vita pubblica di quella che era la città-stato e l'agora era un po' il centro della vita sociale politica un luogo di incontro di scambio dove i cittadini discutevano di idee e partecipavano attivamente alla vita della comunità un ambiente esclusivo aperto accessibile che promoveva la condivisione e l'innovazione attraverso il dialogo e l'interazione e proprio ecco partendo da questo noi con AIGORA vogliamo creare uno spazio dedicato dove le conoscenze sull'intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel settore sanitario e non possano essere condivise e discusse liberamente vogliamo creare uno spazio inclusivo che favorisca ecco in maniera più univoca lo scambio di idee e le informazioni tra professionisti della sanità ricercatori giuristi come abbiamo potuto vedere prima con gli interventi precedenti per facilitare un dibattito attivo e costruttivo tra professionisti ecco un po' rifacendoci a questa metafora dell'agora greca detto questo appunto ci tengo ancora una volta ringraziare il professor Clerici senza cui tutto questo non sarebbe stato possibile e anche Alessandro per l'impegno che settimanalmente pone e porta avanti ecco in questo progetto e cedo la parola ad Alessandro Pezzani grazie grazie mille Edoardo rinnovo ancora i ringraziamenti ci tengo a diciamo dire due parole sul fatto che anch'io come Edoardo vengo da delle competenze un po' diverse da quelle strettamente cliniche anch'io mi occupo al momento di una start-up per lo più curo la parte di marketing e di progetti innovativi attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale per cui diciamo da questo incrocio di passioni e competenze anche con il professor Clerici nasce questo progetto di cui siamo tutti molto grati sicuramente in coerenza con la mission che ha appena illustrato giustamente Edoardo possiamo definire un po' quelli che sono gli obiettivi che stiamo perseguendo quotidianamente tramite questo progetto per cui stiamo cercando di diventare un po' un punto di riferimento nella comunicazione degli impieghi positivi degli AI con il punto carnet di restare indipendenti cercando appunto di non ottenere influenze anche perseguendo comunque lo scopo di cercare di diventare sempre più grandi e sempre più di impatto in questo percorso dall'altro lato sicuramente è importante scusate mi dicono che si sente poco bene si sentiamo un po' distorti adesso dovrebbe sentirsi meglio forse si meglio meglio ok dicevo quindi sicuramente c'è l'obiettivo di cercare di diventare un punto di riferimento in questo ambito dall'altro lato è importante comunque sensibilizzare all'uso consapevole perché banalmente sarebbe sbagliato essere parziali o comunque macchiarsi in qualche modo di miopia essere faziosi nel trattare l'intelligenza artificiale e questo tipo di tecnologie innovative solo da un punto di vista di impatto positivo o applicazioni cliniche senza tener conto di quelle che sono le inevitabili esternalità di questo tipo di progettualità sicuramente come anticipava Edoardo stiamo lavorando a redottare un approccio multicanale per divulgare efficacemente cercando di parlare un po' la lingua di tutti i media più moderni sicuramente possiamo dirci già fieri di quello che abbiamo ottenuto finora infatti come si riesce a vedere da questo grafico siamo già riusciti ad ottenere circa 300 iscritti alla nostra newsletter che ogni settimana leggono e si informano sulle novità in questo ambito e siamo anche contenti di vedere che spesso la newsletter viene condivisa anche con altri lettori che comunque apprezzano la possibilità di potersi informare in questo modo per cui diciamo questi questo tipo di risultati questo tipo di riscontro è quello che indubbiamente ci dà la forza per cercare di portare avanti il progetto e cercare di sbloccare magari nuove modalità e nuovi obiettivi stiamo già lavorando a lanciare i Gorà su nuovi formati anche audio e video come dicevo prima appunto per massimizzare l'aderenza ai linguaggi più moderni e quindi poter essere comprensibili da un pubblico quanto più ampio possibile senza compromettere la qualità comunicativa e la centralità dei temi che abbiamo scelto di trattare stiamo lavorando a portare i Gorà in una dimensione dal vivo e quindi poterla rendere un dialogo ancora più collaborativo e in co-creazione e inoltre pianifichiamo già di includere opinioni esterne per appunto promuovere questo dialogo qualitativo e integrare punti di vista che possano arricchire il contributo di quella che è la nostra newsletter ad oggi vi ringraziamo per l'attenzione chiaramente io e Edoardo siamo super disponibili a accogliere qualsiasi intervento domanda contributo e comunque lasciamo anche qui i nostri contatti per eventuali ulteriori necessità sì Alessandro io ne approfitto per fare una call to action magari anche agli altri relatori all'interno della newsletter che ne facciamo uscire settimanalmente ci sarà uno spazio dedicato a degli opinionisti che porteranno la loro esperienza con l'intelligenza artificiale nel proprio settore e quindi noi vi invitiamo caldamente a contribuire se volete trovate appunto le nostre mail e noi vi aspettiamo grazie a tutti una buona serata benissimo benissimo ringraziamo Edoardo e Alessandro siamo stati un po' più lunghi rispetto ai tempi che erano previsti per cui temo che lo spazio per domande interazioni non buttiamo via nessuna delle idee che ci possono essere venute anzi cerchiamo di tenerle usando le occasioni che ci sono l'abbiamo chiamato osservatorio il termine cantiere a qualcuno sembrava un termine un po' troppo massonico ma il concetto è di un'operosità attorno ad una questione che richiede per forza un lavoro insieme e questa è una prospettiva molto ricca che speriamo di riproporre con qualche nuovo incontro e magari qualche evento anche in presenza dopo l'estate la newsletter a cui vi rimandiamo è il nostro strumento assieme a una mailing list abbiamo ricevuto la richiesta di partecipazione ci permetteremo di mandare aggiornamenti a chi è partecipato siamo stati in tanti circa un centinaio fra il collegamento zoom e il collegamento youtube bene ringrazio tutti moltissimo per la partecipazione per le relazioni importantissime e ci diamo appuntamento a questo punto prossimamente grazie e arrivederci a tutti grazie a tutti arrivederci Carlo arrivederci tutti ciao grazie 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 a tutti buona serata buona serata grazie a tutti grazie a tutti